Io sono ancora presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. La passata legislatura ero commissario quindi nella commissione d'inchiesta e abbiamo seguito passo passo le vicende del fallimento delle quattro banche e poi abbiamo aperto il dossier Montepaschi che adesso è in una fase delicatissima. Quindi tutela del risparmio, tutela dei risparmiatori. Carla Ruocco conosce bene la realtà retina e quella toscana ha infatti seguito da vicino il dossier Montepaschi e le vicende legate al crack di Banquetruria. Adesso la toscana ancora nel suo destino è infatti capolista di impegno civico nel collegio plurinominale alla Camera nella circoscrizione Toscana 2. Ricordo che io nel momento in cui mi sono insediata come commissione ho aperto subito uno sportello virtuale a disposizione di tutti i risparmiatori perché non avvenisse mai più quello che abbiamo visto nel caso delle quattro banche che poi sono solo un esempio, cioè che venissero rifilati, diciamo così come le parole giuste, dei prodotti molto rischiosi a dei risparmiatori completamente inconsapevoli. Carla Ruocco ha seguito l'uscita dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio entrando nel nuovo movimento impegno civico che è alleato del centro-sinistra. Quali sono i punti principali del vostro programma elettorale? Innanzitutto l'inflazione, il caro bolletto, intervenire immediatamente. Rischiano la chiusura 120.000 imprese con ricadute pesantissime su tutta l'economia ed anche sulle famiglie, sui lavoratori e tutti. Quindi l'80% delle bollette deve essere a carico dello Stato per tutte le aziende italiane. Questo costa 13 miliardi e mezzo e le coperture si possono trovare. Poi nel programma ovviamente sono previsti investimenti per la realizzazione anche del PNRR, un programma appunto per i giovani, l'accesso facilitato al mutuo. Quindi tante iniziative, tanti punti. Per esempio ecco quello dell'accesso al mutuo è un punto fondamentale che per acquistare una casa un giovane deve poter non mettere l'anticipo e quindi essere aiutato per l'erogazione finanziaria iniziale e per gli interessi da pagare successivamente. Quindi tutte queste iniziative devono essere di stimolo per il sistema economico in modo tale che il paese esca da questa terribile crisi. La sfida principale però il 25 settembre sembra essere quella l'assenzionismo. Sì, perché anche questa scelerata decisione di far cadere il governo Draghi ha sicuramente fatto ulteriormente allontanare le persone dalla politica. Il governo e il Parlamento si devono occupare dei problemi dei cittadini minuto per minuto e questo era un momento delicatissimo.